Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, finalmente dopo averlo provato per più di qualche giorno sono pronto a raccontarvi la mia esperienza con il nuovo Nubia Z11, un dispositivo veramente molto interessante. Prima di cominciare la recensione voglio ringraziare ovviamente l'ufficio stampa di Nubia per avermi dato la possibilità di testare questo prodotto, troverete qui sotto il video tutti i link per dove eventualmente andare ad acquistarlo e soprattutto ragazzi questo è il dispositivo che verrà distribuito qui nel nostro territorio, quindi Garanzia Italia, Play Store, Banda 20, tutta la traduzione perfetta per poter essere utilizzato lo smartphone immediatamente mettendo dentro la nostra sim e il nostro account di Google. Ma adesso andiamo a scopriare insieme come gira questo smartphone nell'utilizzo di tutti i giorni, andiamo al banco e scopriamolo insieme, è bellissimo, è bellissimo. Purtroppo ragazzi non posso effettuare l'unboxing in quanto la versione che ho ricevuto proprio da Nubia è per giornalisti, per recensori, quindi manca di tutti gli accessori e della confezione di vendita. Non preoccupatevi però che nel momento dell'acquisto troverete un ottimo paio di cuffie, un caricabatterie con ricarica rapida e un cavetto di tipo Type-C. Nubia non ha risparmiato nemmeno nei materiali utilizzando alluminio su tutta la back cover posteriore, a parte i due profili sopra e sotto dove è stata utilizzata plastica per dare spazio e qualità a quelle che sono le antenne dello smartphone e essendo completamente privo di cornici è un dispositivo che si fa davvero apprezzare in mano, maneggevole, leggero, ben bilanciato ma soprattutto non è affatto scivoloso. Misura 151.8 x 72.3 x 7,5 mm di spessore e pesa 162 grammi. I pesi sono ben bilanciati in quanto lo smartphone sta veramente ben in mano, ha una presa piuttosto sicura e è davvero piacevole utilizzarlo anche senza cover. Nel profilo sinistro troviamo il carrellino per due nano sim oppure una nano sim e una micro sd ad espandare i 64 giga di memoria interna. Mede nel profilo superiore abbiamo l'attacco jack 3.5, il secondo microfono per la soppressione di rumori e la porta a infrarossi. Nel profilo opposto invece abbiamo il bilanciare per il volume e il tasto accensione e spegnimento. Nel profilo basso troviamo due griglie, su una la cassa di sistema mette sull'alta il microfono principale. L'attacco centrale Type-C permette di ricaricare lo smartphone in modo rapido circa 2 ore e 15 minuti per portare dal 0 al 100% la batteria da 3000 mAh che mi ha permesso di arrivare sempre a sera con circa 16 ore piene di utilizzo superando le 4 ore e mezza di schermo acceso. Dovete considerare che il mio utilizzo è parecchio pesante, infatti durante l'arco della giornata Skype, Whatsapp, Facebook e Messenger sono sempre attivi. Poi ho due mail in push e un orologio sempre attivo. Considerando tutto questo e la possibilità di ricevere anche degli aggiornamenti che potranno andare a migliorare ancora la situazione batteria, non mi assicuramente deluso. Nella back cover posteriore troviamo lo sblocco con impronta che si trova in una zona abbastanza comune per tantissimi smartphone. Facile da raggiungere ma soprattutto preciso e veloce, infatti in questi giorni di utilizzo non ho mai avuto nessun problema per sbloccare lo smartphone. Grazie al software di Nubia poi potremmo decidere di andare a bloccare alcune applicazioni e sbloccarle solo grazie alla nostra impronta. Sono ben 16 megapixel disponibili della fotocamera principale di questo Nubia Z11, una fotocamera targata Sony MX298 con apertura f2.0 stabilizzata, affiancata da un doppio flash LED bicolore. È stata montata a filo della scocca come potete vedere quindi non avremo nessun problema quando il dispositivo sarà appoggiato in quanto resterà bello stabile. A contraddistinguere quella che è proprio la famiglia Nubia troviamo questo piccolo cerchietto attorno alla fotocamera che riprende anche quello frontale che è veramente bellissimo. L'interfaccia fotografica mi ha davvero convinto in quanto è davvero facile da utilizzare. Come vedete possiamo passare dalle fotografie alla modalità pro, timelapse oppure quelle che possono essere i video slow motion di ottima qualità. Facendo uno swipe semplicemente dall'alto verso il basso e questo la rende davvero facile da utilizzare ma soprattutto ottima per i punti a scatta. Mi sono trovato bene anche con quella che è proprio la velocità di scatto e il fuoco in quanto mi ha permesso di scattare delle fotografie di buona qualità. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, questo è un video registrato a 1080p a 60fps dal nuovo Nubia Z11. Non è lo smartphone cinese ma è proprio la versione che utilizzeremo qui in Italia, quella che verrà distribuita per l'Europa. Quindi parliamo di versione italiana, lingua italiana, Play Store, tutte le bande presenti. Quindi uno smartphone completamente utilizzabile nel nostro territorio. Facciamo il solito pane, movimento delle immagini qui nella mia zona. Come avete sentito all'inizio della recensione questo smartphone arriverà completo di tutte le bande. Quindi non ci sarà nessun problema che si sia il vostro gestore o di utilizzare il 4G. Purtroppo non posso dirvi molto nell'unità che sto testando in quanto questa è fallata e non riesce ad andare in LTE con Tim qui nella mia zona. Ma quello che posso raccontarvi è la qualità telefonica per quanto riguarda la capsula di sistema e i due microfoni. In questo ragazzi è uno smartphone praticamente perfetto, una qualità in capsula eccezionale, molto calda. Sono riuscito a telefonare in zone davvero difficoltose dove c'era molto rumore, sentendo perfettamente quello che mi veniva detto. E anche i due microfoni sono veramente ben tarati, infatti dall'altra parte mi sentivano benissimo. Ma quello che sicuramente lascia di stucco è la potenza della cassa di sistema. Credo sia il miglior smartphone a singolo speaker che ho provato fino ad oggi sia come potenza che come qualità. Ma giusto per dare la possibilità anche a voi di capire quello che intendo vi faccio sentire una chiamata in viva voce e un brano che è già all'interno dello smartphone. Per il creditore vivo e il bonus della tua linea, premi 1. Per parlare con un operatore, premi 2. A completare la scheda tecnica dello smartphone poi abbiamo un wifi dual band veramente potentissimo, un GPS che riesce a fare i fix a freddo in un lampo e soprattutto un bluetooth 4.1 e anche la presenza dell'NFC. Il pannello frontale, oltre ad essere privo di cornici, quindi a dare come già detto un'estetica veramente impressionante, ha un ottimo trattamento antiimpronta e una lavorazione a 2,5D ad accoppiarsi perfettamente col profilo dello smartphone. A completare l'estetica davvero eccezionale di questo smartphone troviamo il tasto home posto qui fuori dallo schermo, retroilluminato che fungerà anche da notificatore, a contraddistinguere quella che è proprio la famiglia Nubia. È veramente bellissimo. È affiancato poi dai classici tasti Android, come vedete raffigurati da due piccoli puntini, anch'essi retroilluminati, che possono essere anche cambiati di posizione. Davvero molto bella, come abbiamo ben capito, la tecnologia utilizzata su questo Z11. Fare scomparire dei cornici e renderlo così accattivante a livello estetico nella parte frontale sicuramente farà apprezzare tantissimi il design. Però ovviamente poi ci vuole un pannello di qualità e anche in questo non hanno sicuramente sbagliato. Abbiamo al suo interno un 5,5 pollici full HD bello luminoso, raggiunge 403 ppi, è una tecnologia IPS, si può tarare a livello software e nell'utilizzo di tutti i giorni mi ha permesso di utilizzarlo anche all'aperto con tanto sole senza nessun problema. Non raggiungiamo S7, molto probabilmente come luminosità massima, ma comunque non mi ha dato nessun problema anche utilizzando gli occhiali polarizzati. Essendo un dispositivo in pre-order, quindi con un software che ancora molto probabilmente non è definitivo, lo smartphone e l'utilizzo di questi giorni si è comportato sempre benissimo. Mi aspettavo più difettosità, più lag. In realtà, a parte qualche piccola traduzione, vola. Il dispositivo vi arriverà già con Android 6.0.1, basato sull'interfaccia Nubia UI in versione 4.0. È un'interfaccia davvero bella, curata, veloce. Non ho mai avuto nessun blocco, nessun lag, nessun ripensamento su quelle che è proprio la gestione di tutto il dispositivo. Potremmo andare a tenere premuto, come sempre, andare a organizzare quelle che sono le nostre icone, attivare gli sfondi o comunque andare all'interno delle impostazioni, che sono davvero tante. Tra queste voglio farvene vedere una che è interessante, in quanto grazie a questa poi riceverete tutte le notifiche in modo puntuale. Innanzitutto potete avere la velocità della connessione di rete, ma soprattutto potete decidere se ricevere le icone delle notifiche qui sopra. Ma andando proprio all'interno delle notifiche e delle applicazioni, come vedete, per esempio, andiamo su WhatsApp, potete decidere se riceverle a blocco schermo, se riceverle nella barra delle notifiche, se avere l'avviso, se avere il notificatore qui sotto che dovrà pulsare, se riceverete ovviamente un WhatsApp, e dovrete attivare questa voce, notifica scrittura su schermo bloccato, altrimenti alcune notifiche probabilmente non vi arriveranno. Facendo questo poi saranno tutte perfettamente puntuali. abbassando in questo modo la tendina delle notifiche, come vedete, vediamo quelle che sono le notifiche, o tutte quante le scorciatoie che potremo anche andare ovviamente ad impostare, a regolare e organizzarle un po' come vogliamo. Sono davvero ben curate tutte le voci di questo Z11, ma sicuramente salta all'occhio la gestione di bordi. Entrando dentro ad ognuna di queste sezioni ci verrà mostrato quello che potremo fare proprio con ognuna di queste voci. Io vi dico la verità, alcune le ho davvero utilizzate tanto, in quanto le ho trovate comode e facili da utilizzare. Altre invece le ho eliminate immediatamente, le ho tolte in quanto si attivavano involontariamente, magari semplicemente prendendo lo smartphone dal tavolino. Vi farò vedere quelle che utilizzo di più durante l'arco della giornata e che le ho trovato davvero comode. Innanzitutto potremo andare a aumentare e diminuire la luminosità dello schermo facendo uno swipe in questo modo, oppure potremo andare a aumentare e diminuire il volume della nostra musica sempre nella stessa maniera. Quindi è davvero molto molto semplice. Un'altra impostazione davvero carina è quella di attivare un'applicazione in questo modo dal basso verso l'alto e lo stessa cosa possiamo farla dall'alto verso il basso. Quindi avremo le nostre due applicazioni preferite sempre attive in questo modo per poterle utilizzare molto più velocemente rispetto a un normale multitasking. Ma le funzioni nascoste all'interno di questo smartphone sicuramente non sono finite, ce ne sono tante altre, ma una tra quelle che ho utilizzato di più è questa, la screenshot allungato, tenendo premuto il tasto accensione spegnimento e il volume basso potremo entrare all'interno della schermata allungata. Facciamo così in questo modo e andremo a scegliere la parte di schermo che ci interessa inviare ad un'altra persona o salvare per esempio per poterla leggere in offline. Questa è la porzione di pagina per esempio della repubblica.it. Facendo in questo modo, adesso io mi fermo, faccio interrompi così, salverò quella parte di schermata in questo modo all'interno della mia galleria. Infatti guardate se andiamo all'interno della mia galleria, questa è l'ultima schermata che io ho salvato. Posso tranquillamente andare a vedermela, allargarla così in questo modo e leggere tutto quello che ho salvato. Questo è molto comodo per esempio se vogliamo inviare anche una porzione di pagina o di discussione fatta su WhatsApp, potremmo inviarla in questo modo a qualsiasi altra persona e così si potrà leggere come andremo a vederla direttamente allo schermo del nostro smartphone. Guardate qui con quale poi velocità, sembra una grande fotografia panoramica praticamente. Quindi è davvero molto molto intelligente come funzione. Come vedete facendo uno swipe dal basso verso l'alto, divideremo completamente lo smartphone in due. Quindi avremo tutte le applicazioni che ci sono sopra anche sotto. Io vi faccio vedere immediatamente come utilizzo questa cosa durante l'arco del giorno. Ad esempio posso andare a leggermi la mia pagina internet tranquillamente e magari nella parte superiore faccio partire un video su YouTube e quindi posso decidere quale video vedere. Nel frattempo magari vado a fare le mie cose su WhatsApp o vado a leggere qualche pagina all'interno di internet. Potremmo decidere la grandezza e la porzione di schermo da utilizzare ma soprattutto questo potrà essere messo anche in modo orizzontale e funziona tutto perfettamente. Divido in due lo schermo in questo modo e quindi avremo un multitasking eccezionale. Mi ha convinto tantissimo. Far girare così bene lo smartphone senza lag, senza impuntamenti vari troviamo lo Snapdragon 820 Quad Core con una frequenza 2,15 GHz, un Adreno 530, 4 GB di memoria RAM, in questo caso 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Ovviamente ragazzi con questo hardware il dispositivo vola nell'utilizzo di tutti i giorni ma anche quando utilizzeremo Chrome per la navigazione web con pagine pesanti come la Repubblica.it non ci sarà nessun problema. Come vedete segue perfettamente tutte le mie richieste. Andiamo anche all'interno di una nuova pagina per capire come si comporta anche con l'impaginamento delle informazioni. Guardate con il doppio tap con quale velocità riusciamo a vedere il tutto. Torniamo indietro nuovamente, ritorniamo all'interno della Home e mentre che sta facendo questa cosa noi andiamo in Real Racing 3. Vediamo se l'ha lasciato aperto, eccoci qua e vediamo come si comporta anche nel gaming. Specchietti attivi. Fluidità molto buona, non c'è più il problema del audio che riscontravo con i Snapdragon 820 con altri dispositivi provati quindi molto probabilmente hanno aggiornato l'applicazione. Guardate che bel crepo che si è formato sul vetro. Un altro paio di curve e poi ritorniamo all'interno della Repubblica vediamo se anche quella è ancora aperta intanto sentite anche l'audio bene usciamo bruscamente da qua torniamo all'interno della Repubblica ed eccola qui come vedete non è stata ricaricata è ancora bella attiva torniamo anche all'interno della Home e vediamo come si comporta anche qui ma ovviamente ragazzi 4 giga di RAM Snapdragon 820 e quant'altro non poteva che essere così fluido. Arrivando alle conclusioni ragazzi come avete ben capito questo Nubia Z11 comincia al 100% e dai tempi di G2 che non ricordo un device così ben ottimizzato soprattutto per quanto riguarda l'ergonomia e gli spazi infatti è facilissimo da utilizzare con una sola mano nonostante i suoi 5 pollici e mezzo in più non è nemmeno scivoloso quindi è uno smartphone davvero molto ma molto godibile e anche con una diagonale così grande non si ha la percezione di avere una mattonella in mano è davvero molto ma molto comodo oltre a questo abbiamo la banda 20 la lingua in italiano il Play Store arriveranno tutte le notifiche senza problemi una fotocamera da 16 megapixel ottica di buona qualità abbiamo poi una batteria da 3000 mAh che ci porta a sera con ricarica rapida e ragazzi Snapdragon 820 4 giga di RAM dual sim e memoria espandibile oltre 64 giga di memoria interna tutto questo a 449 euro scontati in questo periodo insomma ragazzi io ho già ordinato la versione da 6 giga sempre presente all'interno del sito dei Nubi Italia che ovviamente ringrazio nuovamente per avermi inviato questo sample in test io come sempre vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale e alla mia pagina Facebook se ancora non lo avete fatto noi ci vediamo fra qualche giorno per un'altra recensione ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.